Ci sono i comandamenti delle serie? Cioè immagino perché poi c'è un sacco di... No, ci sono le tavole proprio, le tavole... Ah, come quelle di Mosè però... Scusa... Le tavole delle serie TV? Ah, proprio... Oh ma... ma che pesanti che sono! Ma come pesano! E io perché mi sono un po' allenato prima, ma se no... Sì! Bello, cioè è vero... Primo comandamento, non vuoi sapere? Sì, vai, dammi un... Ma scusami, Marco, tu che sei il nostro capo autore hipster nerdissimo, tu eri a conoscenza del fatto... Sì, 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 l'ha scritto è JJ Abramo. Cioè sapevi, è un regolamento vero? Ho saputo. Non ne avevo mai sentito parlare. Ma sono famosissimo. Primo comandamento. Sì. Non spoilerare. Giù, beh, questo... Sì, questo lo sapevo anch'io senza conoscere i comandamenti. Secondo. Onora le serie italiane. Giusto, giusto, sì. Terzo. Bella che la musica... Perché la stiamo prendendo veramente seriamente, vai. Non commettere downloading puri. Perché? No. Boh, non lo so. Ogni tanto ho dei virus... O c'è un mio amico. Ho dei virus nel computer che non so da dove vengono poi. Quarto. Non saltare mai un previously. Te ne pentirai. Ah, che sono quelli che ti spiegano quello che suggeriscono. Sì, sì, certo. Le puntate precedenti, sì. Quinto. Le uniche maratone che farai saranno sul divano. Tu corri? Sei sportivo? Corri? Io vado a correre. Io neanche se mi inseguono con un bastone. No, 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 no. Correre zero. A che comandamento sei? Al quinto. Al quinto. Allora al sesto ce l'ho io nella seconda tavola. Rispetta la lingua originale anche quando guardi Gomorra. Perché quello è importante? Cioè il lavoro che fate voi attori... Ci ripetiamo tutto quello con un osso. Per esempio. Non affezionarti a un personaggio del trono di spade. Tanto muore. Questo è vero. Sì, che ogni volta dici ma no. Comincia a piacermi. Esatto, lo sta iniziando. Basta lamentarsi del finale di Lost. Io l'ho fatto per questo e io l'ho fatto per anni. Se sei don... Nono comandamento. Se sei donna non usare la suoneria di Sex and the City. Sì. C'è un po'... È questa, no? Sì, io forse stavo cantando un'altra cosa. Io forse stavo cantando Paul Fischio. Smettetela di sperare nella reunion di Friends. Non succederà mai. Questa mi fa male al cuore. Questa mi fa male al cuore. Grazie.